L'estate è ormai alle porte. Siete pronti all'invasione delle formiche nelle vostre case? Tra gli svantaggi dell'arrivo del caldo, infatti, troviamo gli incontri del terzo tipo con questi piccoli insettini. Ecco allora una serie di rimedi naturali per eliminare definitivamente le formiche senza spendere soldi e soprattutto senza utilizzare sostanze chimiche. Dovete sapere che le formiche, come più in generale gli insetti, non sopportano gli odori forti. Se vengono attratte, per esempio, dallo zucchero, ripugnano il sale e con esso anche la menta, il peperoncino, il pepe, la paprika e molte altre spezie. Le formiche poi odiano anche il forte olezzo dell'aceto, quello del caffè o anche dell'eucalipto. Basterà quindi cospargere gli angoli della casa con oli essenziali di eucalipto e qualche spezia. Anche i chiodi di garofano vanno bene per tenerle lontane da casa. Ovviamente poi, occhio a non lasciare avanzi di cibo in casa. Le formiche ne vanno gli otte. Grazie a tutti.